Musica Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui nella carriera del nostro Monza su YouTube Allora prima di iniziare ragazzuoli vi voglio avvisare visto che anche ieri e oggi mi siete venuti ragazzi a cercare Su YouTube ragazzi io non faccio più live, le live ragazzi le faccio su Twitch In alto a destra il mio Twitch ragazzi li farò live, porterò tante 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 novità, tante live ragazzi La prima novità ci sarà oggi pomeriggio dove gli F1 andranno su GTA 5 RP vita reale ragazzi Quindi se siete curiosi e volete vedere le nostre live ragazzi basta seguirmi su Twitch in alto a destra Qui su YouTube troverete sul blog Challenge e la nuova serie appunto che andremo in live su Twitch Qui troverete la miniserie che noi stiamo facendo su GTA Mentre su GTA vedrete tutto il resto, tutto quello che non vedete su YouTube lo vedete su GTA E niente ragazzi detto questo oggi, oggi, oggi ci andiamo a fare due belle partitelle ragazzi Ci andiamo a fare il Marsiglia e la Roma, bel campionato direi Allora direi di andare diretti contro il Marsiglia, obbligatoria la vittoria visto che comunque siamo a 4 punti con edizia E in caso di vittoria, in caso di vittoria ragazzi non lo so, è tosta Quindi io userei i titolarissimi Però sono tutti stanchi ragazzi Mannaia, mettiamo Mandragola, tanto a gennaio se ne va Ormai è ufficiale ragazzi, Mandragola se ne va e arriva Voglio dare un'opportunità a lui, ok A gennaio Mandragola se ne va ragazzi e arriva Ser Renatino Sanceri Ragazzi Champions League, dagli ragazzi, dagli, si può fare, si può fare ragazzi Attenzione alla Marsiglia che è pericoloso Però, 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 secondo me ce la possiamo fare ragazzi, secondo me sì Dai, dai che devi più veloci tu, grande Calabria Subito Amato, Amato la cambia immediatamente per Calulu Calulu, 1-2, ancora il Monza che si prova a estendere Mandragola, Zagnolo la cambia bene Frattesi, ancora il giro palla del Monza Adesso Calabria, ancora per Mandragola Mandragola la gira, Frattesi Giro palla del Monza in questi primi 8 minuti Subito per Aspadori, per Pinamonti che cade Però non fischiano il fallo, attenzione alla ripartenza del Marsiglia Adesso che è pericolosissimo Grande Calabria che spacca tutti Fati, dai Fati che, fallissimo arbitro Ma, vero fa l'arbitro Attenzione Cerca compagni Grande Frattesi di Cattivere Che vi ruba la palla Subito il Monza che prova a ripartire La gira bene per Raspa Raspa, vede l'inserimento di Frattesi Frattesi, 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 Frattesi Frattesi, no Che sfortuna ragazzi, che sfortuna Però, però, però Bella azione del nostro Monza Dopo 20 minuti subito Vicinissimo all'1-0 Vicini, vicini ragazzi Dai Grande Mandragora Subito il Monza Mandragora, non mi sembra pericolosissimo Il Marsiglia Fati, Fakaluru Mezzola 1-0 ragazzi Dopo 23 minuti Infatti lo stavo dicendo Non mi sembra pericolosissimo Il Marsiglia ragazzi Bella Bella Bella, bella, bella Bella ragazzi Bella, bella, bella Caluru, Zagnolo E Raspadori ragazzi 1-0 Monza Ci sta, ci sta Ci sta a manetta Questo 1-0 ragazzi Abbiamo solamente resistere Adesso Attenzione Ci riprova Rando e Calabria Che anticipa Bene per Fati Fati, la cambia Il Monza Col solito possesso palla Ancora Fofana Avanza Fofana La gira bene Amato Velocissimo Cambia bene Mandragora No, non si riesce a girare Ma ancora palla nostra Ancora Mandragora Pina Monti Si gira Prova il tiro Oh, mamma mia Come sta giocando bene Il Monza Ragazzi Sentirete una piccola Turbolenza Ma è perché Sono 40 gradi Ragazzi Fa caldissimo Veramente oggi Mamma mia Sto registrando A fin agosto Ragazzi Quindi Rendetevi conto La turbolenza E il ventilatore Ragazzi Tranquilli No, amato Non fare cazzate Che stai giocando bene Ancora il Monza La cambia Mandragora Bella Fofana Lupina Rasp Frattesi È passato 2-0 ragazzi Frattesi Al 35esimo Raddoppio del Monza Con il capitano Che la piazza lì Bella, bella, bella Anche questa azione È bella Ormai Stiamo giocando bene Ragazzi Stiamo giocando bene Bello Frattesi In mezzo a due Si mangia I due difensori Del Marsiglia La piazza lì Dove il portiere Non la vede E 2-0 Ragazzi Dopo 35 minuti Ci sta Ci sta Se può fare Ragazzi Se può fare Attenzione a comandare Il Leone Prova a reagire Ma Calulu è ovunque Ragazzi Calulu è ovunque Attenzione Ancora Provano Attenzione ancora loro Adesso Zampacosta La butto lunga Chiude benissimo Ma ancora Palla loro Attenzione Mamma mia Calulu Che è diventato un mostro Calulu Ragazzi Riprova Adesso Ripartire Bella Che azione Col fallissimo Fallissimo Raspadoni Fatti Che cazzo fai Fatti Cosa fa Fatti Mamma mia Frattesi Frattesi Calcio Champagne Ragazzi Del Monza Calcio Champagne Che cosa ha fatto Frattesi Anche Fatti Ci ha provato Ragazzi Calcio Champagne Io direi di fare Un po' di sostituzione Al secondo tempo Bisogna Poi abbiamo la Roma L'Olympic Non mi sembra neanche Tanto pericolosa Quindi Finisce il primo tempo Con un bel 2 a 0 Rotondo Rotondo Easy Easy Ragazzi Ci sta Ci sta Questo bel 2 a 0 Complimenti a Frattesi L'Ipsia vince Quindi andremo 7-7 0-0 Facciamo un paio Di sostituzioni Allora Zaniolo Possiamo farlo uscire Mettiamo Sale Marquez Frattesi Lo facciamo uscire E mettiamo 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 Gravenberg E Calulu Che stanco Lo facciamo uscire E mettiamo Dembélé Che prima Non si è comportato male Dembélé Ci manca comunque Sempre un terzino Sempre un terzino Ci manca ragazzi 3 sostituzioni Speriamo Anzi Ragazzuoli Sale Marquez In teoria Nei primi FIFA Adesso non mi ricordo bene Di preciso Nei primi FIFA Mi sembra che Sale Marquez Era un Era un terzino Se non sbaglio Quindi lo possiamo far giocare Come terzino Destro Vai ragazzi Dai Secondo tempo Pina Calabria 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 Ancora ragazzi Ma che sta succedendo Ancora Pina Monti Si gira Ci prova Ma arriva Rimocchio Amato Ancora il Monza Fofana Ancora Fofana Gravenberg Indietro Indietro Allora sale Stoppa malissimo Il centrocampista Dell'Olympic Attenzione a Coman Ancora per Musacco Prova il tiro Viene chiuso Benissimo E riparte il Monza Adesso Mandragora Gravenberg No Sbaglia tutto Gravenberg Perché sbagli Gravenberg Attenzione Attenzione Escudero Ancora L'Olympic Che spinge Adesso Ancora Non sa chi passarla La doppia Rimarcatura Se le aiuta Pure Fati Attenzione All'Olympic Adesso Ancora Scatta un giocatore Prova a spingere Ancora Escudero Ancora Escudero Ancora Escudero Oh Bonecchio Però Sanson Coman Eh vabbè Qua non ho per forza segnale Ragazzi 2-1 al settantesimo Taglie Fa niente Fa niente Fa niente Ragazzi Fa niente Fa niente Va bene Va bene Ragazzi Qua per forza Cioè hanno fatto Non li toglievi la palla Ande Fofana Mandragora La cambia 1-2 Ancora Mandragora No Appena Monti Attenzione All'Olympica Adesso Che spinge Bravo Fofana Dai ragazzi No Attenzione A Coman La cambia bene Sanson Ancora Ancora Fuori gioco Vabbè Tanto non ci arrivava Però era fuori giochissimo Ragazzi Seconda sostituzione per loro Amato Calabria Gravenberg Terza sostituzione Basta ragazzi Andiamo a fare il 3-1 Chiudiamo qua Corella Monza Mandragora Grande Mandragora Recupera Sale Marquez Gira bene Tina Coste mano Arbitro Finita Buono 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 Ragazzi Buono 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 2-1 Ottimo 2-1 Abbiamo fatto un po' I cazzoni Se si può dire Verso la fine Però Va bene 3-0 Quindi in teoria Sono passati noi E l'Ipsia 7-7 Loro sono ancora a 0 Quindi la prossima Ci abbiamo l'Ipsia In caso di pareggio Col pareggio Passiamo entrambi E loro si attaccano Allora Avete vinto Migliorare la fase difensiva No Perché Non servono migliorie Perché Scusa Perché Controne non ha giocato La competizione aiuta Poi Controne era stanco Siete riusciti a battere l'Olympic Evidentemente abbiamo visto Le partite Sembrava in grado di pareggio Evidentemente abbiamo visto Le partite diverse Viste che io comunque L'abbiamo dominata Non lo so che partita Avete visto Però va bene Allora Saliva Sono rimasto male Cavolo Saliva Mi sono dimenticato Continuo a lavorare Sodo E mister Credo che Qual Credo che Sappe Non giocare Rientri nei miei piani Non preoccuparti Miralda Non ti preoccupare Cavolo ti stai preoccupato Ok ragazzi Andiamoci fare la partita Contro la Roma Finalmente Non è stanco Calabria Io Lo farei Lo sostituerei Perfetto Allora abbiamo Calabria Come i terzi In chiacchia Calabria 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 Non ne abbiamo Un paio Ok Caluno Per il resto Non tocchere nulla Magari facciamo riposare Fati Mettiamo dentro Barbosa Perfetto Così Andiamo alla partita Contro la Roma Partita contro la Roma Partita importantissima Visto che la Roma è sopra Quindi se si vince Si va Se si vince Ragazzi Si può iniziare a prendere Il gap Che abbiamo dal Milan Siamo a meno due dal Milan La Roma è seconda Noi siamo quarti Se non sbaglio Dobbiamo cercare di vincere Anche perché Con le big ancora Non abbiamo vinto Grande Teo Subito Barbosa Agira bene Partito che si Ancora per Colombo Colombo Tutrone No Troppo lunga Bravo Colombo Che recupera Più o meno Riparte la Roma Adesso Attenzione Embolo Indietro Veretur Attenzione Attenzione Che è pericoloso Grande Calulu Corri Calulu Vai Colombo 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 Ci prova La bomba Ragazzi Di Colombo Mamma mia Angolo Dalla bandierina Zaniolo Carica troppo Contro la sua Ex squadra Zaniolo E' la prima Contro la sua E' la prima contro la sua squadra Visto che è appena arrivata a punto dalla Roma E' la prima Ovviamente vorrà fare con la sua squadra Dai ma cos'è Ma no Ma non ci credo Ancora la Roma Roma adesso sulla destra Capitano che si Ancora Passaggio per Perez 1-2 Ancora Schick Chiude Demiral Angolo Angolo Roma Primo angolo per la Roma Al 28esimo Intanto Bonir Si è fatto male Via Bravo Frattesi Cutrone Cutrone Contro tutti No Perde palla Cutrone Lì Non puoi perdere palla Gallini Mamma mia Calulu Ancora Ripartiamo Dai Lo so che è più difficile La Roma Del Marsiglia Colombo contro tutti Frattesi Barbosa Feccia rossa In mezzo Di testa Colombo 1-0 Ragazzi Mamma mia Mamma mia Ragazzi Colombo Come sta crescendo Colombo Ragazzi Mamma mia Come sta crescendo Colombo Ragazzi Mamma mia L'anno scorso Non mi ricordo Se è arrivato Capocannoniero Comunque È lì Però Colombo Ragazzi Sta facendo Un botto di gol 8 partite 3 gol Colombo Ragazzi Segna sempre Infatti Ragazzi È diventato Titolare Colombo Prima non era Nel blocco Dei titolari E invece Adesso Sì ragazzi Nel blocco Dei titolari Giustamente Perché segna Sempre Cioè ormai Quando ho iniziato A vedere Che Madueke Segnava poco E Colombo Segnava un botto Abbiamo venduto Madueke Perché tanto Raspa Sta crescendo Mamma mia Frattesi Anche Frattesi Ragazzi Cosa fate Barbosa Mamma mia Come siamo usciti Puliti Ancora il Monza Frattesi Frattesi Di velocità Fallissimo Questo è rosso Però Rosso Arbitro Arbitro E giallo Vabbè Dai Anche se dovrebbe essere rosso Però Ma che cavolo Terrabbi Cioè Mai fatto fallo Dall'ultimo uomo Cioè Va qua Era mia la palla Mi è venuta sulle gambe Vabbè Troppo Troppo lontana Per Quarantunesimo Tesi Demiral Lo vede Colombo Ce la fa Ancora Calulu Che si Cutrone Feccia Attesi Zaniolo È passato Zaniolo È passato Zaniolo 2-0 Ma non so perché Non mi ha fatto esultare Perché era della Roma Mi sa che è per quello Ragazzi 2-0 Sostituzione a manetta Pure qua Sostituzione pure qua Perché comunque Questi hanno giocato Tre giorni fa Ragazzi Contro il Marsiglia Ottimo 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 Allora Zaniolo È stanco Quindi Si leva E mettiamo Sale Marquez Calulu È stanco Mettiamo Carlos E Fratesi È stanco E mettiamo 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 Chi mettiamo 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 lui Per forza Ok Per il resto Non toccare nulla Tanto comunque Stiamo giocando bene Ragazzi 2-0 Dobbiamo solo Mantenere 2-0 E siamo Tutti tranquilli Felici E contenti Ragazzi Carlos Agosto Carlos 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 Mamma mia Cutrone Ragazzi Dagli Tutta Ancora Noi Demeralle In mezza Rovesciata Non ce la fa Ma ancora Come stiamo Giocando Bene Ragazzi Che si Si permette Il palleggio In centrocampo Sale Marquez Ancora Noi Che si No Gravenberg Che si 1-2 Colombo Si gira La passa In mezzo No Mamma mia Mamma mia Ragazzi Mamma mia Come stiamo Giocando Bene Grande Demeralle Come Attenzione Alla Roma Embolo La prossima Abbiamo Il toro Ok Quindi Possiamo Tranquilli Tranquilli Alla prossima Chic Embolo Embolo Buone Chiu Mamma mia Lucas Attenzione In mezzo Gollini Fallissimo Arbitro Fallissimo Esce Chic 75esimo Saliba Caniente Ancora La Roma Ultima azione Embolo Ancora Fornas 2 di recupero E finisce E finisce Ragazzi 2-0 Che bel Monza Che Bel Monza Ragazzi Sono Stratratrat Contento Veramente Bello 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 Allora Milan Con Lellas Napoli Spezia Inter Atalanta Ok Ne voce a fare L'intervista Ragazzi Bello 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 Sto Monza Me gusta Sì Allora Pensava di vincere Abbiamo difeso Il giocatore Hanno dato tutto Abbiamo giocato male Come abbiamo giocato male Abbiamo vinto 2-0 Abbiamo giocato benissimo Allora Ci hanno facilitato il compito Abbiamo meritato Abbiamo meritato Ma che Monza Abbiamo fatto Ottimo Lopez Abbiamo fatto la nostra partita Chi è Lopez? Il portiere è loro? Ok ragazzuoli Allora Grazie mister Per l'opportunità Apprezzo il tuo impegno Bravo coach Che stai salendo bene Aggiornamento mensile Allora Carmine No Tu No 54 57 94 No 58 No Tutti bassi sono Mamma mia No Ragazzi No Vinceremo c'è la partita Contro il Toro Intanto Meno 2 Meno 2 ragazzi Dalla capolista Allora Doppio Aggiornamento No No Ho letto Miglione No No Portieri Basta E neanche Lui Ok Mentre Vediamo L'ultimo Ci porta Lui 70 No 44 61 57 No Tutti schifo Mamma mia Che giocatori Che ci stanno portando Che giocatori Che ci stanno portando Non mi piacciono Sti giocatori Ragazzi No 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 Purtroppo Purtroppo Ragazzi Purtroppo No Mandragora Venduto Ok ragazzi Ci salutiamo qui Mercoledì Ci andremo a fare Torino E Sassuolo Niente ragazzi Vi ricordo solamente Che Su Twitch Ragazzi Mi trovate Tutti i giorni A fare le live Dopo le 3 E Anche su GTA Ragazzi E niente ragazzi Un saluto A vostro FFG Ero 87 Ci vediamo Mercoledì Ragazzi Preparati Dalla nuova serie GTA RP Bella